Signori, bene, puntata del mercoledì dedicata alla didattica, oggi faremo un po' di esercizi perché qui si batte un po' la fiacca, signori, ok? Andremo a fare l'esercizio a tela mossa creato dal grande maestro Zenon Franco Ocampos. Allora, come funziona questo esercizio? In pratica, su Torre Cavallo, che è la rivista che consiglio a tutti di comprare, in alcuni numeri, adesso non so se la fanno più questo esercizio, ma ad esempio questo è un numero del 2006, e c'è a tela mossa. A tela mossa è un bel esercizio, non c'è in tutti i numeri di Torre Cavallo, comunque la rivista la consiglio lo stesso da comprare, una rivista bimestrale, ok? Bene. Ora, il grande maestro Zenon Franco Ocampo ci propone una partita test in cui il lettore è chiamato a giocare come se si trovasse in un vero torneo magistrale, ok? Però non vi dovete preoccupare se poi i punti che fate in questo esercizio sono pochi, questo è un modo per cercare di migliorare sul lungo periodo. Tra l'altro vi consiglio di, dopo aver visto il video, di rifare l'esercizio guardando il video, stoppando il video quando io farò i quiz, ok? Quindi adesso facciamo l'esercizio con le soluzioni, no? Con le domande e con le soluzioni. Poi questo esercizio lo dovete rifare a casa, in queste modalità. Il lettore deve scoprire da solo nei momenti cruciali le mosse migliori. Consigliamo di usare, quando lo farete poi a casa. Un foglio di carta, ma beh, questo, vabbè, il foglio di carta effettivamente non serve perché se lo fate direttamente da Torre Cavallo vi danno subito le soluzioni, quindi bisogna coprire un foglio di carta. Ma online, usando la scacchiera a 2D non avete bisogno di coprire nessuna soluzione. Dovete stoppare il video, ok? Dovete stoppare il video perché io dirò la soluzione, ok? Poi non usate i motori perché non serve a niente, qui non ci sono motori. Perché uno non può anche dire, eh ma di queste soluzioni nessuna delle due o tre o della soluzione che dà il voto migliore è la migliore. Perché i motori dicono un'altra cosa. Sì, ma questo è un esercizio del 2005, non c'erano ancora questi motori alfazio, alfazio, ok? Quindi non voglio sentire commenti del genere. Uno che mi propone, eh sì, ma se giocassi al posto di quello che dice l'esercizio, al posto della soluzione, io avevo trovato A6. Poi si scopre che A6 è la migliore del motore. Non facciamo questi trucchetti da bar, ok? E non servono a niente. Se non siete capaci a giocare a scacchi, imparate da zero. Ci sono i miei video all'inizio, poi mercoledì prossimo farò un po' di aperture generali senza teoria per capire come giocare un'apertura di scacchi e cercare un po' di capire perché si gioca la Roy Lopez o l'italiana, capito? Ok? Poi, chiaramente non dovete sentirvi inferiore agli altri, eh? Io non ci capisco niente, esercizio non lo so fare. No, vi mettete lì e lo fate due, tre, quattro volte segnali, ok? A distanza magari di una o due settimane. Ok? Bene. Ora, vi dico come... Allora, io adesso farò il video, farò le domande e poi darò le soluzioni. Quando rivedrete il video per fare esercizio, quando arriverà il momento che io ho finito di fare il quiz, stoppate il video e ragionate sulle opzioni che vi ho dato. Ok? Bene. Adesso vi spiego. Perché poi questo è un gioco a punti. Poi, per giocare in una dimensione più agonistica, si può impiegare l'orologio. Se avete un orologio di scacchi, o comunque un orologio normale, vi mettete un'ora e mezza, ok? Voi vi mettete un'ora e mezza, mettete, non so, un timer. Voi in un'ora e mezza dovete finire tutto l'esercizio, tutto il quiz, ok? Bene. Quindi, per comodità, giocate dalla prospettiva del nero, perché qui dice il lettore gioca col nero, il bianco è un forte grande maestro, no? Dovete immaginare di giocare contro un grande maestro, signore, solo su questo canale, questo tipo di esercizi. Ok. Bene, prendiamo questa partita in esempio, non vi dirò che partita è, di chi è, ma andiamo avanti. E4, E5, una difesa simmetrica, una partita di re simmetrica, cavallo F3, cavallo in C6, vescovo B5, Roy Lopez. Oh, allora Roy Lopez, una delle aperture colt degli scacchi, assieme anche alla catalana, al gambetto di donna, sono le regine dell'apertura, questa, eh? Quindi, dovete capire poi il senso della Roy Lopez, perché si gioca al vescovo in B5, chiaramente la minaccia di prendere il cavallo, però poi uno, diciamo, mangio il pedone, però se il nero riprende col pedone D, arriva a donna D4, il pedone lo riprende, ok. L'obiettivo della Roy Lopez, in realtà, è quello di minacciare, sì, la cattura del cavallo, ma per rompere la struttura. Altre volte, invece, è soltanto una finta, ovvero, questo vescovo, quando verrà scacciato, alla fine, dopo C3, si nasconderà in C2, ma questo qua è un modo, ok, per capire il centro fissato, il bianco che attacca il pedone, ok. Bene, andiamo avanti, qui non sto parlando di apertura, andiamo avanti con l'esercizio. A6, attacca il vescovo, non dà, si può anche dare il vescovo sul cavallo, ma si può anche non dare, la maggior parte dei giocatori non dà più il vescovo sul cavallo, non fa più la variante di cambio. Cavallo F6, per attaccare il pedone in E4. Arroco corto, il bianco se ne frega del pedone in E4, oggi i top i gemme giocano tutti i D3, per non rientrare nella variante aperta, ok, questo pedone non lo vogliono dare, ma non importa, qui, dobbiamo fare l'esercizio. Arroco corto, vescovo in E7, pronto ad arroccare, perché qui il nero semplicemente decide di non prendere il pedone, vuole giocare chiuso, vuole giocare tranquillo, mossa di sviluppo, torre 1 questa volta, il torneo per i gotti si sviluppa e si difende il pedone, perché la trappola era data dal fatto che dopo la cattura del pedone c'erano i raggi X sul re, adesso non ci sono i raggi su re, c'è il vescovo, ok? Bene. B5, si allontana il vescovo, vescovo B3, D6, una Ruy Lopez classica, C3, sportellino per il vescovo, arrocco corto, H3, idea di impedire il vescovo G4, cavallo A5, interrogazione del vescovo, qui siamo rientrati nella variante C-Goring della Ruy Lopez, ma non è quella, non vi voglio far vedere l'apertura, si toglie il vescovo in C2 per salvare la coppia, C5, il nero si espande al centro per controllare la spinta D4, ok? Il bianco però la può fare lo stesso, anche perché il cavallo non è in C6, quindi non controlla tre volte questa casa. Comunque il nero è molto solido, con questa struttura pedonale il vescovo generalmente andrà in fianchetto e si punterà anche alla variazione in D5, lo portò R8, vescovo F8, ok? Lo scopo principale del nero, ok? I piani principali. E vedi, infatti il bianco cosa fa? Gioca subito D4, va subito a cercare di causare l'apertura del centro, ok? Perché questa coppia di vescovi dovrà prima o poi esploderare tutta la sua potenza, signori. Mi raccomando, like e iscrizioni, come sempre. Vescovo C2, C5, D4, donna C7, il nero non cattura il pedone. Perché non cattura i pedoni? Per il motivo che vi ho detto. Il nero non vuole aprire il centro ai pezzi del bianco, perché si ritroverebbe poi un feroce attacco sull'ala di re. Attenzione, il nero vuole giocare chiuso. Donna C7, mossa d'attesa, difende sulle case scure, difende sulle case scure. Cavallo Bd2, tipico piano dell'Arvi Lopez, quello di andare in F1 e di andare o in G3 o in E3 per prendere la case F5. E qui poi, chiaramente, il bianco approfitta di questo, quando il vescovo sarà in B7 e qui il nero deve giocare G6 perché il cavallo in F6 è insostenibile sul lungo periodo. Ora, B2, vescovo D7, però il surprise qui del nero non gioca a vescovo B7, gioca a vescovo D7. Una linea diversa. Cavallo F1, il bianco continua con il suo piano standard. Torre AC8, torrone per i grotti, perché questa. Perché adesso la minaccia è presa, presa, parte il vescovo. Attenzione. E qui, vedete, se uno giocasse a pappagallo, mi hanno detto che nell'Arvi Lopez si gioca a cavallo G3 per andare in F5. Voi giocate cavallo G3, presa, avete perso un pedone minimo. E se non lo vedete, e catturate immediatamente, così, al volo, senza pensare, perché a voi piace giocare a tre minuti, a bullet, ditelo, ammettetelo, ammettetelo, e fate queste porcherie. Anch'io le faccio le porcherie a 3 più 2, ma io non devo più imparare nulla. Io, io, sono arrivato dove dovevo arrivare. Più in là non posso. Ho vinto quello che dovevo vincere di tutto e di più nella mia categoria. Sono arrivato a un livello che ho saputo che a un certo punto era il livello massimo a cui potevo aspirare, e poi mi sono ritirato dagli scacchi. Ma cosa devo imparare? Io sono qui per cercare di, insomma, farvi diventare giocatori quantomeno accettabili. Magari non agonisti, però, per cercare più o meno di capire a meno quello che si sta facendo un po' sulla scacchiera, più o meno, più o meno, perché nemmeno i GM sanno effettivamente cosa succede sulla scacchiera. Basti vedere anche il mondiale, no? I blunders che a volte fanno. Quindi, no, non vi dovete preoccupare. Non voglio sentire che io non sono capace, io non sono... Ma sì, vabbè. Allora, se uno pensa di non essere portato, di non essere capace, dice, lo dice, ma va, non gioco a scacchi. Gioco a palla a pugno, gioco a palla avvelenata, gioco a mosca cieca. Ma non gioca a scacchi, ci sta. Però uno che dice, ma io voglio giocare a scacchi, e continua a giocare. Vedo che fa 10.000 partite online al giorno, tutte bullet, e poi vi ne dire, ma tanto io sono scasso, ma che cosa stai a perdere tutto sto tempo a fare ste bullet? Spiegamelo. Cioè, questo è il senso. qui siamo a tana degli scacchi, non stiamo mica nel convento delle Orsoline, insomma. Allora, torniamo a noi, torniamo all'esercizio. E qui bisogna cavallo E3. Non è perché ha scelto cavallo E3, perché non gli andava cavallo E3, perché cavallo E3 difende il vescovo, segnalato. Eh, fatti. C per D. Adesso si può fare C per D. Ok? Due pezzi che difendono, due pezzi che attaccano. Cavallo C6. Ok, bene. Cavallo C6. Questo cavallo vuole andare a interrogare un po' il centro, chiude la colonna, e devo essere sincero, ricentralizza il cavallo. Anche perché sì, questo pedone presa, 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 no, non succede niente. Comunque, ricentralizza il cavallo. L'esercizio inizia qui. L'esercizio inizia qui. A te la mossa con i pezzi bianchi. Quindi, se volete, quando il quesito vi chiede cosa giochereste con il bianco, capovolgete la scacchiera. Cliccate, qui sono sull'Icess, cliccate... Scusate. Qui c'è un quadratino con dei punti. Vedete, qui c'è questo quadratino con le linette. Lo cliccate e ruotate poi la scacchiera. Andate su ruota scacchiera e ruotate la scacchiera. Ok? Per comodità. Io adesso nel video ti ero sempre puntato sul nero. Ok. Un attimo per il sistema. Ok. A voi la mossa col bianco. Avete quattro possibilità, quattro opzioni. A3. D5. Interrogazione del cavallo. Occupazione del centro. Blocco del centro. Vescovo B3. Riattivare il vescovo su questa diagonale. Perché il cavallo è andato via. Oppure la cattura al centro. Liquidazione del centro. Ok. D per R5. Quindi, adesso darò la soluzione. Però voi, in questo punto del video, stoppate quando lo rivedete la seconda volta. Perché dovete vederlo la seconda volta. Adesso vi faccio vedere come si fa l'esercizio. Poi la seconda volta lo riparte da capo. Ok? Stoppate il video. E non andate a guardare le soluzioni che avete trovato. Ok? Bene. Perché adesso vi dovete scrivere la soluzione. E i punti. Poi questi qui li mettete in un cassetto. Ok? Rifate l'esercizio. Finito l'esercizio andate a riprendere il cassetto. Andate a riprendere il foglio e ripetete. Andate a vedere quanti punti avete fatto. Ok? Lo so. Sono esercizi che uno può dire. Eh ma ci metto tanto tempo. Sono noiosi. Qua e di là. Oh. Allora. Se volete imparare a giocare a scacchi è così. Altrimenti guardate i video dei gamer bullet e imparate da loro. Che vi devo dire? Che vi devo dire? Vedo. Non avete idea di cosa facevano i bambini in Unione Sovietica. Già 5-6 anni a scuola. Gli davano i compiti. Cioè un esercizio è così. Era un compito da consegnare il giorno dopo. In certe scuole in Russia. Quindi. Ma di cosa stiamo parlando? E poi dite che fate fatica. Poi certo ci vuole anche un po' di tempo. Un po' di voglia. Un po' di passione. Ci vuole un po' di tutto. Ok? Bene. Bene. Ok. Avete segnato le quattro opzioni. Perché se non le segnate poi non ve le ricordate. Prendete sto benedetto foglio di carta. Vi scrivete. A3. A3 di pedone. Prima soluzione. Prima soluzione. Primo quesito. D5. La seconda. Vescovo B3. La terza. E la cattura del pedone. La quarta. Ok? Ci siamo? Perché sennò il video dura 5 ore. Ok? Andiamo avanti. Adesso vi darò la soluzione. La migliore di tutte è D5. Che vi dà un punto. Quindi un punto per chi trova D5. Qui c'è anche il commento. Fin qui anche più avanti è tutto conosciuto e normale. Questa avanzata è la mossa più usata. Benché siano pure giocabili. A3. Quindi sia A3 che Vescovo B3 sono giocabili. E ricevono un punto anche loro. Invece non riceve nessun punto chi... Anzi si deve togliere un punto. Perde un punto. Andate sotto 0. meno 1. A chi ha scelto la presa del pedone. E vi spiega il perché. Non è giustificato eliminare la tensione centrale. Cos'è la tensione centrale? La tensione centrale è quando i pedoni si guardano. Questi due. Questi sono in tensione. Questi due non sono in tensione. Si bloccano. Questi due si bloccano. Questi due sono in tensione. Perché sono uno sotto cattura dell'altro. Ok? Se voi cambiate, eliminate la tensione. Ok? Quindi, questa è la tensione. Quindi, eliminando la tensione, si aprirebbe la colonna D in faccia alla donna. Quindi è facile poi mettere un torrone pernigotti. E chiaramente il nero va in leggero vantaggio posizionale. Quindi vi togliete un punto se avete deciso di aprire la colonna in maniera troppo prematura. Senza un piano. Ecco, queste sono le mosse. Prendo pedone, riprendo pedone, massi, tanto per fare. E questo è il punto. Questo è il punto per capire gli scacchi strategici. Segnare. E' chiaro, non posso pretendere da uno che ha imparato a giocare a scacchi da pochi mesi, poche settimane, o magari gioca da un anno ma non si è mai impegnato in un torneo. Non posso pretendere che voi sappiate la differenza, ok, dalla spinta alla presa. Però adesso ve li sto insegnando. Ora, la presa qui, non è che si perde la partita. Toglitevi dalla testa. Eh, vabbè, mi taglia un punto, ma non è un Blanders che perde la partita, no. È un piccolo mattoncino che si aggiunge, poi i mattoncini che verranno dopo, quindi somme di imprecisioni che alla fine produrranno una sconfitta, ok? Ora, dovete sapere che aprire prematuramente il centro, in questo determinato caso della Rui Lopez, è sbagliato perché, prima di tutto, guardate questo pedone in D6. Cioè, questo vi dovrebbe già far capire tanto, ok? Che è più facile, forse, da capire. Il pedone D6 è debole perché non ha altri pedoni che possono difenderlo di fianco. Non importa se ci sono 100 pezzi pesanti che difendono il pedone. Il pedone è debole quando non può più essere difeso da altri pedoni, signale, ok? Bene. Questo è debole su una colonna che si potrebbe aprire. Ma se il bianco la apre, lui cambiandosi sparisce dalla scacchiera. Quindi voi, cambiando, questo non rimane qui, togliete una debolezza al nero. È più semplice, vista così, ma... Ok. Andiamo avanti. Quindi il bianco ha giocato D5. Attacca il cavallo. Cavallo in B4. Attenzione, si attacca la coppia di vescovi. E il vescovo va tenuto nella Roy Lopez. Se non lo si cambia in apertura con la variante del cambio, poi lo bisogna tenerlo. Perché questo qui servirà molto, ok? E adesso c'è il pedone. Però dovete ragionare su lungo periodo, signora. A5 del nero vuole guadagnare spazio sull'ala di donna, ma non solo. Vuole farsi una casa di fuga per il cavallo. Attenzione. Che succede se fate una mossa random qui? No, 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 ma mi hanno detto che c'è il piano della Roy Lopez, Torone per Negotti ne ho, il vescovo va in G7, perché io poi farò G3, il cavallo non viene più qua, metto il vescovo in fianchetto e sto bene, sì. Però qui basta che il bianco faccia A3 e il cavallo dove va? Dove va il cavallo? Qui non può scappare, qui non può scappare perché è preso, qui non può scappare perché è impreso, e qui non può scappare perché è impreso. Perdete il pezzo. Se non fate A5 perdete il pezzo. Ok? Quindi inutile studiare a pappagallo a memore l'apertura. Avete visto che cosa vuol dire? Se voi giocate alla Roy Lopez col nero, mi dite, oh ma io questo punto qui, io questo punto qui gioco, ho visto, ho visto, ho visto, torre 8, ho visto, H6, ho visto, ho visto. Però avete messo il cavallo in B4. Avete messo il cavallo in B4, quindi non avete più case di fuga, dovete saperlo, basta, il cane di casa, anche a baia, signori. Quindi A5 serve per darvi la casa al cavallo. Il bianco gioca A3, cavallo A6, la casa di fuga. Adesso a voi la mossa, signori, a voi la mossa con il bianco. Cosa giochereste qui? Cosa giochereste qui? Ora io darò la soluzione, ma voi quando rivedrete il video, stoppate e cercate di pensare con la vostra testa. Ora però vi dovete segnare la soluzione. Prendete sto foglio e penna, carta e matita, signori, carta e matita, come una volta, d'altrana degli scatti, signori. La soluzione che vi do, quindi quello che vi ho dato prima, d5, che dà il punto, a 3, a vescovo b3, che danno un punto anche loro, e la cattura di pedone, che dà meno 1, vi dovete scrivere tutto. sennò il punteggio alla fine come è fatto a sapere che punti, non sapete quanti punti avete fatto, ok? Quindi segnate quello che vi dirò. Ora, la soluzione qui è b4, clamoroso, sembrano sacrificie di pedone, e credo che nessuno di noi l'avrebbe trovata. E qui, per chi trova b4, due punti, quindi scrivete b4 uguale a due punti, e vi spiega perché. Questa mossa è quasi obbligata, perché non può permettere che il cavallo in a6 vada in c5. Qualsiasi altra mossa, cioè, se voi avete pensato qualsiasi altra mossa, vi dovete mettere meno due punti, che è in meno due. Annaggia. Scusate, ma i cani abbaiano e non si può fare esercizi col cane che abbaia. Ora, ora, uno può dire, ma a b4, sì, non dà la casa c5 al cavallo, però io me lo sberlucco, no? Quindi presa, presa. e che succede se prendo col cavallo che perdete un pezzo? Dopo donna b3 perdete un pezzo. Dove va il cavallo? Non può tornare in a6, perché adesso torna il pernigotti e è aperto. Surprise, tattica, quindi facciamo anche un po' di tattica, ok? Perché voi appena vedete il pedone, quelli che vedono il pedone in presa, perché ci sono anche tanti novizi che non vedono neanche che c'è un pedone in presa o un pezzo in presa, ok? Quindi devo anche spiegare in questa maniera semplice, no? Per chi vede la cattura di un pedone, presa, presa, fa il calcolo, una difesa e due attacchi mi sberlucco, solo che poi il cavallo non ha più case. Per questo che gli scacchi sono difficili, sono difficili, questo non vuol dire che non vi dovete mettere a giocare a scacchi, però dovete sapere che sono difficili, ok? Bene. Qui, prendere è una porcheria, anche perché dopo la presa, mettiamo che voi vedete che, ops, mi sono sbagliato, perdo il pezzo se prendo il pedone, ma che faccio adesso? E allora dovrete qui tenervi un cavallo brutto, dovete giocare a donna in B7, cavallo lo mettete in C7 e poi tutti i pezzi rimangono incartocciati, dopo tutto questo cavallo rimane incartocciato, non so più dove andare, ok? Bene. Quindi B4 due punti e chi non ha trovato B4 si toglie due punti, crudele, da tanto degli scacchi, se finite sotto zero pazienza, la prossima volta aumenterete il riscaldamento, il termostato è migliorato, bene. Però la partita è continuata in questo modo, A per B, A per B e donna B7, però a me non piace, non piace perché, boh, sto cavallo che ruolo avrà? Il bianco, secondo me, qui non c'è nessun motore, e il bianco, secondo me, è già in leggero vantaggio, ma sarà anche in vantaggio, secondo me, di un più 07, più 08, poi, nell'esercizio potete fare un ulteriore esercizio, valutare la posizione, valutiamo la posizione, segnari. Incominciamo sempre dalla sicurezza del re, come dice Dorman, sicurezza del re, pari, tutti e due i re sono arroccati, rettangoli per arrocco ben difesi da entrambi, ok, quindi pari, struttura pedonale, struttura pedonale, qui il bianco ha due isole e anche il nero, è una situazione simmetrica, ok, un centro bloccato, non è fissato, è bloccato, i pedoni si bloccano a vicenda, centro bloccato, il bianco ha questo leggero vantaggio di spazio per il controllo della casa, delle case chiare, il nero ha questo piccolo vantaggio del controllo di case scure, vogliamo essere pignoli, forse il bianco ha leggermente la struttura pedonale, ma io darei pari struttura pedonale, ok, per non complicarvi troppo la vita, pari anche la struttura pedonale, allora arriviamo alla mobilità dei pezzi, mobilità dei pezzi del bianco, allora partiamo, partiamo sempre dalla casa a uno in poi, ok, valutiamo il torno e pernigotti, una, due, tre movimenti, quindi il movimento dei pezzi, ok, la mobilità dei pezzi si calcola dove i pezzi possono andare senza catturare, senza essere catturati, o senza essere minacciati, ok, quindi il torno e pernigotti ha tre case, il vescovo ne ha una, due, tre, quindi siamo a sei, questo vescovo ne ha una, due, tre, siamo a nove, la donna, una, due, tre, quattro, 13, siamo a 13, il torno e pernigotti uno e due, siamo a 15, il cavallo, no, perché no qui, perché potrebbe essere catturato il torno e pernigotti, quindi una, del cavallo siamo a 14, una, due, tre, quattro, siamo a 18, e il bianco ha 18 mosse di movimento, ok, e il nero quante ne ha? questo cavallo ne ha una, due, la donna ne ha una, due, e tre, e quattro, quindi siamo a sei, sette, otto, otto, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, anche il nero ha 18 mosse di movimento, minacce immediate, non ce ne sono, teoricamente dovrebbe essere 0,0, però la mia valutazione è di un più 0,7, perché c'è anche un concetto astratto, ovvero il vantaggio di spazio, il bianco sull'ala di donna ha tutto questo vantaggio di spazio, di controllo, questo enorme quadrato, mentre il nero, secondo me, è chiuso in piccoli rettangolini di spazio, quindi dare questo più 0,7, da più 0,5 a più 0,7 al bianco, dobbiamo fare una prova, andiamo a controllare un attimo qui la valutazione, qui l'ho spento tutto quanto, vediamo, accendiamo, più 0,6, più 0,7, più 0,7, più 0,8, più 0,7, signore sono un mostro, ma non perché sono un mostro a Ea, ma perché con questo sistema, sapete dare una valutazione come se foste un motore, voi andate al bar, andate al bar e dite, oh, dove giocano a scacchio, oppure andate al circolo, prendete una posizione, in una partita, mentre stanno giocando, vi metteteli con calma, a fare questo ragionamento che vi ho fatto, fate la valutazione, poi gli dite, andate un po' a vedere online sul motore, cosa dice Stockfish, questa posizione è più 0,7, più 0,6, ok? Quindi ho sbagliato di 1,1, qui alla fine è da un più 0,8, serve a poco, però per farvi capire, segnari, come si valutano la posizione, per sapere chi ha il leggero vantaggio, se c'è un vantaggio tracotante, ok? Questo a prescindere dalla tattica, eh? La tattica è a parte, questa è una valutazione posizionale, signori, togliamo qua, torniamo a coprire tutto, beh, il motore non ce ne frega niente, bene, torniamo all'esercizio, poi vi spiega che non era possibile prendere il pennello cavolo, perché si perdeva il pezzo, ok? Andiamo avanti, bianco gioca vescovo di 2, adesso voi, alla mossa a terra, a voi la mossa col nero, a voi la mossa con il nero, e non vi do suggerimenti, qua dovete pensarci, stopperete il video, vi do subito la soluzione che dovete scrivere, vescovo in D8, chi trova questa mossa a due punti, e la spiega, il riposizionamento del vescovo in E7 è una delle idee fondamentali della variante, perché? Ora, qui voi in realtà non sapete cosa fare, magari a qualcuno potrà venire in mente questa, ok? Però toglierete la casa al cavallo, ok? Ci potrebbe anche stare, però, qual è il pezzo che gioca proprio di meno? questo vescovo, che guarda un pedone che non è comunque attaccato, questo vescovo dobbiamo farlo respirare, ok? Quindi, l'idea di portare il vescovo in B6. Altra mossa degna di attenzione è G6, col piano che ho detto prima, ovvero inibire il salto del cavallo, poi spostare il torno ai pernigotti e giocare il vescovo in G7, altro piano degno di nota, quindi anche G6, se trovate G6, vi diamo due punti, due punti per chi trova G6, ok, perfetto, andiamo avanti. Il nero gioca a vescovo di 8, il bianco gioca a vescovo di 3, vescovo in B6, canonico. A voi la mossa con il bianco, signori, nessun suggerimento. Stoppate, l'esercizio in realtà non lo dovete fare adesso, mentre c'è la premiere, lo rifate un'altra volta, adesso io vi do la soluzione, perché tutte le volte che c'è il quesito, voi dovete stoppare il video, stoppate il video e pensate, ok, ora vi faccio vedere la soluzione. Cavallo C2, chi trova questa assurda mossa, riceve ben 5 punticioni, ben 5 punticioni, perché l'Eco ha commentato su questa cosa qui. Una cosa che ho appreso dalla mia partita con Short, è che, perché poi si analizzano anche le stesse partite, le stesse varianti di altre partite, l'Eco commenta, è una partita che ha fatto con Short, è che se non c'è un obiettivo chiaro sul lato di Re, il bianco deve concentrarsi sulla A di Donna. Il piano con cavallo F5 è andato a carte 48, praticamente, ok, quindi dovete switchare il cavallo qui, che cosa può fare? Andare in A3 e far pressione su questo pedone. Donna E2, e avanti, troppe frecce, va bene, cavallo A3, attacca il pedone, il vescovo attacca il pedone, la donna andrà ad attaccare il pedone, ok, questo pedone è un target, così come potrebbe essere un target questo pedone, però avete visto il vantaggio di spazio del bianco, che vantaggio ha dato? Ha dato il vantaggio che questo pedone è attaccabile solo dal cavallo, mentre il pedone del nero è attaccabile da tre pezzi, ok, queste sono valutazioni astratte, però occhio, non voglio fare tanto il complesso, voglio cercare di essere semplice. Questa mossa ha vari scopri, in primo luogo, anzi, lui dice che questa, oltre a fare questo, provare a giocare, ad attaccare il pedone, libera il vescovo per andare in G5, e dare fastidio a questo cavallo, che non ha più un vescovo che lo difende, quindi il rischio di doppiatura del pedone dell'arroco. Poi addirittura c'è un'altra manovra che l'Eco menziona, quella di giocare un Rocklifter alla John Grafy, torre A3, per giocare cavallo A1, cavallo B3, cavallo A5, quindi gioco di posizione. gioco di posizione. I piani sono diversi, anche questo è un piano che può andare bene, secondo me, quindi varie sfumature, quindi 5 punti, altrimenti se non l'avete indovinata, niente, non vi togliete niente, ok? Ora, a voi la mossa col nero, come rispondete a sto cavallo C2, signori? E qui vi diamo 4 opzioni, 4 opzioni. La prima, H6, voi avete capito, siccome siete anche voi dei top GM, l'idea del bianco di mettere il vescovo in G5, per dar fastidio a questo cavallo, allora giocate H6 per impedire l'arrivo del vescovo, questa è un'opzione. Re H8, seconda opzione, beh questa l'ho capita meno, comunque è presente, cavallo E8, con l'idea che se arriva il vescovo non inchieda più niente, con la possibilità magari di reagire con G6, cavallo G7, F5, spinta di rezzone, o addirittura F5, brutale subito, ok? Tipica dell'est indiana questa, perché se andiamo a vedere la struttura, è molto simile a quella dell'est indiana, solo che nell'est indiana abbiamo già il vescovo in fianchetto qui, ok? Però le strutture sono simili. E poi l'unica spinta di rottura che ha il nero, è la spinta in F5, e quindi cavallo E8 può servire questa, oppure la mostruosa idea cavallo per E4, sacrificio di pezzo, e bisognerà valutare perché qui c'è il sacrificio di pezzo. Sacrificio di pezzo secondo me c'è, perché dopo la presa, la presa F5, si riprende il pezzo con questo forchettone, però qui la posizione assume caratteri veramente tattici, dinamici, spaventevoli. Bene, avete queste quattro opzioni, stoppate il video, pensate, ok? Ora, le valutiamo tutte. Chi ha scelto H6, punto di domanda, questa mossa è superficiale, che serve evitare vescovo G5, però ha dei difetti. Qual è il difetto? Il difetto è che crea un punto di contatto. Scusate, il punto di contatto. Se vi arriva il pedone fino a G5, poi vi arrivano lo stesso i pezzi. Quindi, non dare punti di contatto, non serve in realtà. E sapete perché non serve H6? Non serve perché non c'è la donna in D8. Se ci fosse stata la donna D8, aveva già più senso, perché questa sarebbe stata comunque un'inchiatura. persistente. Perché persistente? Perché non vi potete schiodare facilmente. H6 la dovevate fare dopo. E poi forse anche G5. La donna non si può mai togliere, se no, se vi prendono il cavallo, vi doppiano i pedoni. Cerco di essere semplici. Quindi, chi ha scelto H6, perde due punti. Due punti perché ha scelto H6. anche se l'ha giocata Gattakamsky, signori. Gattakamsky, in una sua partita, ha giocato H6. Cioè, anche se l'ha giocata Gattakamsky, vi togliete due punti. Oh, ma la giocata Gattakamsky mi toglie due punti? Sì, perché qui siamo a tante di scacchi, non siamo a casa di Gattakamsky. Che tra l'altro ringrazio Gattakamsky perché ha, come dire, valutato una mia idea, non è proprio mia, l'ho ritirata fuori un po' dal nulla. una variante anti-London System, perché io seguo anche Gattakamsky su Twitch, al canale, gli ho proposto in chat la mia variante e mi ha risposto e mi ha detto ottima idea, questo è un piano interessante per il mero. Quindi ringrazio Gattakamsky. Signore, Gattakamsky si è giocato il titolo di campione del mondo, eh, mica. ok. Poi, vi dice che se avete provato a giocare brillanti con l'idea cavallo per, vescovo per, F5 e via dicendo, quello che vi ho detto, l'idea del forchettone, perdete addirittura tre punti. Sapete perché? Perché ricattura di torrone per nigotti, signore. e sempre con F5 con l'idea di dare il forchettone, torre E1, date il forchettone, cioè vescovo F4, riprendete il pezzo ma andate a stare veramente come dei cani, come il cane di Carson. Quindi... che ho avuto una brillante idea di giocare... io, io comunque lo premierei per il coraggio. Non gli toglierei del tutto tre punti, gliene toglierei soltanto uno, perché quantomeno è coraggioso. E a tante dei scacchi si apprezzo il coraggio. Bene. Andiamo avanti, invece. La più precisa, preparando il controgioco, è allo stesso tempo difendersi da vescovo G5, RH8, che io non avrei giocato, io avrei giocato cavallo E8. Addirittura, chi ha trovato il RH8, quattro punti, con l'idea poi di mettere il cavallo in G8. Assurdo. Per preparare F5, ok. Di quattro punti, se avete trovato l'idea di mettere il cavallo in G8, credo che nessuno l'avrà trovata. Cambiamo pagina. Però, se avete trovato cavallo in E8, come nella resta indiana, due punti per voi, signori. Sempre col piano G6 ed F5, ok? Qui, il nero aveva giocato in partita, aveva giocato H6. Però, a voi la mossa col bianco dopo H6, signori. H6 è un indebolimento. La soluzione è la migliore. Cavallo H4. Chi trova cavallo H4 ha 4 punti, perché questa mossa castiga l'errore del nero ed è l'unica che riceve punti. Adesso c'è un obiettivo chiaro, il lato di re. Il nero non può difendere adeguatamente la casa F5 con G6 a causa della debolezza in H6. Adesso G6 non è possibile perché si perde il pedone in H6 col vescovo. Ok? Io avrei provato a fare questo G4 e il problema di G4 qual è? E che qui potrebbe anche starci un sacrificio di due pezzi potrebbe starci o comunque indebolisce tutto il lato di re i pedoni della rocco verrebbero sbardellati è un'idea da punta a ruolo però voglio vedere un attimo qui il motore cosa ne pensa di G4 magari a qualcuno di voi è venuta in mente vediamo solo la valutazione qui adesso vedete la valutazione è già buona per il bianco però G4 è troppo doppio taglio secondo me verrebbe voglia di giocarla però forse i pezzi non sono ancora non collaborano ancora bene cavallo H4 è molto più posizionale molto più porta un altro pezzo apre la diagonale alla donna proviamo voglio vedere G4 proprio un blunder penso sia rischiosa ok vedete il bianco mantiene un leggero vantaggio più 0,3 è comunque una mossa che è impegnativa psicologicamente per il vostro avversario perché comunque mi ha certi di rompere le scatole si può anche giocare questo G4 non è così così brutta chiudiamo la tendina ok chi ha trovato G4 vabbè io personalmente gli voglio dare un punto voglio dare un punto mio non c'entra quell'esercizio per l'intraprendenza un punto per l'intraprendenza comunque cavallo H4 4 punti ora qui il nero risponde dopo cavallo H4 risponde con cavallo H7 sempre con l'idea di provare a liberarsi un po' non so qui non è facile adesso 1 2 3 arriva pure l'ambulanza mannaggia 3 non si può fare F5 forse vuole preparare il nuovo vescovo di 8 per attaccare il cavallo per quello ho tolto il cavallo in H7 comunque non c'entra niente con l'esercizio sono mie valutazioni ah vuoi la mossa col bianco adesso dopo cavallo H7 non ci sono opzioni stoppate il video e pensate un attimo la soluzione è donna F3 si trova donna F3 due punti perché donna F3 aiuta a preparare cavallo F5 senza dover sbardellare i pedoni no comunque è valida anche donna H5 più intraprendente ancora con la stessa idea di controlla F5 però più tracotante due punti anche per questa due punti per donna F3 e due punti per chi trova donna H5 ok bene il bianco ha giocato donna F3 il nero ha riposto con cavallo G5 attacca la donna vuole catturare la coppia dei vescovi qui non si dà la coppia dei vescovi perché è quello che vuole il nero in realtà catturate cattura cattura cavallo F5 il problema è che il bianco ha un pezzo in meno per attaccarlo quindi nella Ruy Lopez con il bianco bisogna cercare di tenere la coppia dei vescovi il più possibile piuttosto sacrificare un vescovo alla bisogna ma non darlo attaccata alla donna il bianco gioca donna G3 adesso il cavallo è attaccato due volte ok il nero gioca cavallo C7 incredibile libera la colonna A per giocare torrone per il gotin A8 per giocare a donna e focalizzare ulteriormente la lotta sulla di donna a costo di sacrificare il pedone c'è qui sacrificio di pedone però io fossi in voi non farei questa scelta altra possibilità nella quale giocare il vescovo di 8 come ho detto io e prova a difendere ora domanda nel caso di vescovo di 8 a voi la mossa con il bianco cosa fareste dovete scegliere tra due linee cavallo in E3 o la brutale F4 diretta risposta il bianco va in vantaggio con cavallo in E3 perché aumenta la pressione sulla casa F5 controllo di case due punti per chi trova la manovra cavallo E3 per aiutare la casa F5 vedete che gli scacchi sono difficili ma quando capite qual è il vostro obiettivo sembrano più facili voi state lavorando sulla casa F5 ne mettete un altro di cavallo ok invece e due punti però per chi ad esempio qui facciamo cavallo E3 uno pulirò ma gioca C6 e non puoi fare il cavallo in F4 arriva cavallo G4 e adesso qui le debolezze cominciano a essere parecchie con l'accumulare di forze contro l'arroco del nero quindi il nero sarà costretto a cambiare è sfavorevole perché resta senza un difensore delle case chiare però chi ha valutato invece F4 e l'eco stesso dice che lui avrebbe giocato F4 0 punti la giocava l'eco 0 punti per aprire le linee ma che aveva un motivo per non giocarla che cosa temeva dopo F4 adesso a voi la mossa su F4 su F4 c'è questo problema qua presa presa con il vescovo l'apertura del gioco non è chiaramente vantaggiosa per il bianco a l'eco dava fastidio torone per nigotti in C3 l'avrebbe giocata ma poi non l'avrebbe giocata cioè è un'idea di l'eco ma l'eco poi se ne sarebbe pentito perché con questo torone per nigotti diciamo fa uno spiedino a raggi x e non gli piaceva non è che si perde la partita però i grandi maestri ragionano per dettagli micro dettagli questo video probabilmente sarà difficile per la maggior parte di voi ma questo video lo dovete rivedere per fare l'esercizio ci vorranno anni di pratica ma poi no quelli che guardano i gamer che giocano a bullet magari vinceranno contro di voi cento partite perché vi battono per il tempo perché perché con i trucchi con i trucchi ma tra un anno voi vi ripresentate e vincite cento a zero contro di loro chiaramente non dovete giocare a bullet perché bullet tutti questi concetti posizionali vanno a farsi benedire qui dovete giocare almeno le partite non so classiche o le partite rapide 15 minuti 20 minuti mezz'ora ma no giocare a 3 minuti 5 minuti non ha senso ok torniamo alla partita quindi chi ha trovato il difetto chi ha trovato il difetto di f4 ovvero è arrivato a vedere poi dopo la cattura del vescovo presa presa torre c3 addirittura si becca 3 punti extra bene torniamo indietro dopo donna g3 il nero aveva continuato un cavallo c7 dopo cavallo c7 a voi la mossa dopo cavallo c7 cosa giochereste qui? ricordiamoci che il pedone qui è in presa ok a voi la mossa la soluzione è cavallo e3 sempre con lo stesso piano tre punti considerando che la posizione bianca offre più del pedone di vantaggio che si otterrebbe quindi chi ha visto vescovo per cavallo pedone per donna per un punto però il vantaggio posizionale che ne deriva dalla mossa cavallo e3 è maggiore del valore intrinseco del pedone ok? quindi è più importante giocare di posizione qua perfetto il bianco infatti ha giocato cavallo e3 qui il nero ha giocato torre per nigotti in a8 l'alternativa a torre a8 era opporre resistenza con l'occupazione gratuita di f5 giocando g6 ok? anche g6 è da valutare per non far arrivare il cavallo in tal caso a te la mossa dopo g6 ecco a voi la mossa g6 tocca a voi col bianco cosa fareste se vi fanno g6 sono possibili f4 o cavallo g4 con qualche prospettiva di passare il vantaggio ma non ricevono punti perché non bisogna lasciarsi scappare l'opportunità di decidere cavallo e f5 e trovate sto sacrificio di pezzo vi danno tre punti e dopo la presa vescovo per g5 h per g donna per g scacco re h8 cavallo per f5 vescovo per f5 e per f5 f6 donna h6 scacco re g8 donna g6 scacco re h8 e torrone per nicotti e roecliffe in e4 il matto è imparabile ok? quindi g6 fa schifo perché c'è tattica g6 fa schifo perché c'è tattica vedete la roe lopez si tengono i pezzi perché se questo vescovo fosse stato cambiato non avevate più questa risorsa è tattica tattica si apre il guscio ora il rettangolo pre arrocco al pezzo il cavallo in g5 lo si elimina dopo la presa vedete la prima cosa che si fa si dà via il pezzo si gioca subito cavallo per f5 no si da adesso via il vescovo ma si elimina il pezzo del rettangolo pre arrocco guardate che roba tutti gli attacchi si scatenano quando vedete il rettangolo pre arrocco sguarnito di pezzi e dovete collaborare con almeno tre pezzi cavallo donna e poi questo torne per nigotti che arriverà in traversino ok è complesso sono linee tattiche molto complesse però chi trova questa idea assurda tre punti supplementari bene ma torniamo alla partita perché non ha giocato g6 ha giocato torne per nigotti in a8 il bianco entra in p5 cambio di torne per nigotti presa e qui al posto di riprendere il torne per nigotti cavallo e 7 scacco mossa brillante non geniale ma mossa brillante giocando per il pubblico qui c'è scritto l'eco non sapeva cosa scegliere alla fine ha deciso per la continuazione che sottende il maggior numero di belle varianti a tal fine ha dovuto calcolare molte cose tra le quali una parte della variante che dopo la partita ha perfezionato con il motore con frizz tra l'epoca c'era frizz che era un peppino meccano un peppino a motore signori perché la variante era questa prendere il torne per nigotti torre a 8 torre per donna per cavallo per d6 quindi qualcuno può anche aver visto tutta sta roba qua donna a1 scacco re h2 donna b2 attacca il vescovo vescovo per g5 h per g donna per g donna per f2 sberlucca il pedone in f2 cavallo f3 mossa geniale che chiude la saracinesca alla donna l'eco era arrivato addirittura fino qui all'analisi cioè in partita l'eco aveva analizzato tutta questa roba qua però gli è sfuggita una continuazione donna e3 per cambiare le donne donna di 8 scacco cavallo in e8 copre scacco donna per d7 silberlucca il pezzo cavallo per d6 donna per d6 donna f4 scacco re h1 donna c1 scacco vescovo in f1 vescovo in f1 donna per f1 re in h2 vescovo in e3 donna vescovo in 3 donna b8 scacco re h7 e donna per e5 vince la partita perché il nero non ha più lo scacco in f4 guardate un grande maestro cosa analizza durante una partita signore un top gm ok perché uno qua mi potrebbe dire ma perché non è venuto subito qui con il re perché qui che succede ah c'è semplicemente la ripetizione di mossa di nuovo scacco non si può spingere perché si perde il cavallo anche si prende questo ma c'è si prende questo si prende anche questo si difende il pedone e ci si dà perpetuo a vicenda e qui non si vince più bene ma questa era un'analisi non c'entra niente con l'esercizio un'analisi per farvi capire qui come ragionano i top i tops segnali solo su questo canale mi raccomando like e iscrizione ok la partita era andata avanti così ma l'eco giocato non ha scelto tutta quella linea perché avete visto non ha scelto di prendere il torrone per nigotti perché aveva calcolato tutta quella linea tutta quella linea ha giocato cavallo e7 scacco re h8 ovviamente torre per a1 adesso si riprende il torrone per nigotti cavallo h7 vuole ricollocare ponendo i cavalli nel p6 dopo cavallo h7 a voi la mossa col bianco a voi la mossa col bianco stoppate il video tutto quanto la soluzione è donna f3 quattro punti per chi chi trova donna f3 signori il bianco ha un chiaro vantaggio anche dopo cavallo hf5 due punti per chi trova cavallo hf5 e qui si minacciano dei sacrifizi no? minaccia di sacrificare in h6 cioè qui sta valutando che succede questo presa 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 perché se non si prende tipo una mossa a caso cavallo e8 per difendere l'arrocco potrebbe seguire cavallo per h6 con tanti pezzi neri lontano sull'ala di donna l'attacco sarebbe molto forte quindi cavallo per h6 bene torniamo indietro però donna f3 ben quattro punti il nero gioca e il nero gioca cavallo f6 a te la mossa ad esempio dopo al posto di cavallo f6 se il nero giocasse cavallo in e8 a voi la mossa cosa fareste col bianco dopo questa mossa in cavallo e8? due punti se vedete la mossa la soluzione è il sacrificio di donna signori donna per f7 perché dopo la presa della donna si prende un bel doppio matto affogato signori doppio matto affogato affogato da una parte e affogato dall'altra questo è un affogato con due cavalli due cavalli signori affogato alla vaniglia siccome lo dà il bianco solo su questo canale questi doppi affogati doppio affogato devo essere sincero non l'ho mai visto nemmeno io chi vede il sacrificio di donna due punti extra bene torniamo indietro però il nero non ha giocato così ha giocato cavallo f6 a voi la mossa dopo cavallo f6 però eh stoppate il video tutto quanto ora vi do la soluzione la soluzione la migliore vescovo per h6 sacrificio di pezzo sacrificio di pezzo un punto per chi vede sacrificio di pezzo non solo guadagna un pedone ma indebolisce il re nero perché ovviamente se prendete qui arriva donna per cavallo cavallo era difeso dal pedone con scacco e game over signori ovviamente la partita è vinta ma non nel gioco vivo alla scacchiera senza aiuto del computer perché il nero ha qualche risorsa pratica attenzione dopo il sacrificio di pezzo c'è una linea che salva un po' la partita torrone per nigotti in a8 distoglie l'attenzione e qui se il nero giocasse questa mossa difensiva spaventevole che cosa fareste col bianco è difficilissimo vi do la soluzione il torre f1 la migliore tanto la minaccia di prendere il pezzo non c'è mai in realtà però se cambiavati torrone per nigotti per cui c'è scritto quasi tutte le mosse sono sufficienti per mantenere il vantaggio con il bianco evita il cambio delle torri per impedire che la donna nera si attivi ovviamente chi ha preso qui si becca la donna che si attiva sulla colonna dà un po' di fiato un po' neo sul controgioco perché un conto è attaccare ad una porta sola un conto è il controgioco ok questa mossa torre f1 torre f1 compie compie una funzione difende comunque il punto f2 si mette sull'ala di re ma qui dice che la posizione era già matura per vescovo per g7 scacco e chi ha trovato questo vescovo per g7 scacco tre punti tre punti supplementari sulla quale l'eco dà alcune belle varianti tipo re per cavallo hf5 scacco vescovo per f5 cavallo per f5 scacco re h7 cavallo per g7 attacca la donna e attacca cavallo torrone per nigotti per a1 scacco re h2 dice proprio un sacrificio di torrone per nigotti signori il bianco qui ha un pezzo in meno un torrone per nigotti in meno ma vince il bianco donna a8 donna per f6 donna a8 perché doveva salvare la donna che era in presa donna f8 portare la donna in difesa cavallo per f7 altro pedone che parte e il bianco vince perché minaccia di giocare vescovo e2 vescovo g4 e vescovo g5 con matto a seguire ok bene basta snopi quindi cavallo c e8 vescovo c1 si risalva il vescovo a voi la mossa con il bianco con il nero scusate dopo vescovo c1 io ho la soluzione torne per nigotti in a 1 2 punti l'eventuale controgioco del nero si basa sul contrattacco contro il monarca bianco perciò è necessario cambiare i torroni per nigotti cavallo hf5 donna c7 vescovo d2 torrone per nigotti per f1 scacco re per f1 g6 clamorosa mossa difensiva mossa geniale cavallo in e3 re g7 g4 il bianco decide di aumentare la tensione sull'ala di re il che è sorprendentemente errato benché dal punto di vista pratico dato che è lui che domina questa fase la mossa non è criticabile ok ora dopo g4 a voi la mossa col nero in partita è seguita cavallo h7 che è un blunders lasciandosi sfuggire l'occasione perché siamo umani come ha detto l'eco il nero cerca di sfruttare la debolezza provocata dalla spinta g4 nell'arrocco nell'arrocco bene ma era il momento di accorgersi che si trattava di un'occasione irripetibile e che la cosa giusta da fare era liberarsi del forte vescovo in b6 questo vescovo che non sta facendo nulla bisognava togliere il cavallo vescovo per e3 ora se qui qualcuno ha visto dopo g4 vescovo per e3 4 punti supplementari perché dopo vescovo per infiltrarsi e catturare il pedone con donna c3 attacca vescovo attacca pedone reggi 2 adesso non si può prendere il vescovo perché c'è la minaccia vescovo h6 scacco e parte la donna donna per b4 quindi cavallo c6 donna a4 g5 cavallo h5 cavallo in d8 f6 cavallo e6 scacco vescovo per a6 pedone per e6 donna b3 a voi la mossa con il bianco adesso dopo donna in b3 due opzioni donna e due per dipendere il vescovo no scusate il terreno non è andato in tv ancora poi torno un attimo indietro unazione ��로 emigri non è andato in tv e dicembre ma anche se si è filmato in tv non è andato in tv Scusate un attimo qua A forza di Balzare dall'analga all'altra Un attimo Ok siamo tornati Alla mossa cavallo H7 Che è stata giocata in partita Ora la domanda è su questa posizione qua Cosa scegliereste tra Donne E2 No come è possibile Quindi dopo Torre F1 La partita è andata così Torre per F1 Scacco Re per F1 Ok G6 la mossa è devastabile Cavallo in E3 Re G7 G4 Fino qui ci siamo arrivati Ok Qui abbiamo fatto Il quesito e tre punti extra su vescovo per cavallo Invece il nero giocato cavallo H7 Il cavallo H7 dovete scegliere O Donne E2 O Re G2 Re G2 riceve un punto a segnare Una mossa neutra Che non ha un merito straordinario Ma che rinforza un po' la posizione Ma che rinforza un po' la posizione Invece Donne E2 Perdete due punti qua Donne E2 Perdete due punti Per quale motivo? A voi la mossa dopo Donne E2 Risposta Risposta Il nero coronerebbe la sua idea Cavallo H7 di scomprare la diagonale H4 D8 Potrebbe contro gioco con Donne D8 Ecco la debolezza della spinta G4 Questa casa La donna vuole entrare qui Cavallo C6 Deve salvare il cavallo E Donne H4 Tre punti per chi trova questa idea Di Donne H4 Dopo lo sbaglio di Donne E2 Ok? La confutazione La confutazione di Donne E2 Invece se Se voi col bianco avete giocato Donne E2 Perdete due punti Però se col nero riuscite A capire poi perché vi siete sbagliati Vi date tre punti Ok? Sembra un po' complesso Come cosa Però ci dovete fare la mano Rivedrete il video Lo stopperete Con calma Analizzate Questa partita da sola Vi può occupare Mezza giornata Anche di più Anche una settimana intera Solo di analisi e contraanalisi Senza usare motore Imparerete tanto Imparerete tanto 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 Ok? Andiamo avanti Però qui il bianco ha giocato Regi 2 Regi 2 Qui nero commette un blunders Donna B7 Obiettivamente non è corretta Ma la minaccia Vescovo D8 Recuperando il pedone È forte Ora Perché il nero ha giocato Donna B7? Perché vuole giocare Il vescovo in D8 Attaccare il cavallo Cavallo ci sei Presa 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 Recuperato il pedone Ok? Fran blunder A voi la mossa col bianco È qua Chi trova questa mossa Io gli darei 10 punti Qui ne darebbe 4 Però questa è una mossa da motore Una mossa da barbascarco È impossibile Non la troverebbe nessuno Io sono convinto che nemmeno Ding Li Reng Con poco tempo Troverebbe questa Cavallo C4 Cinque punti Stropico Io ve ne darei anche 100 Una mossa meravigliosa Per sfruttare l'allontanamento Dei pezzi neri Dalla difesa della Roc Unita alla forza Del cavallo in E7 Il bianco vince Con attacco da matto Cavallo C4 Cavallo C4 Spaventevole Si poteva giocare anche G5 Questa equivale quasi ad un abbandono Per No scusate che dico Cavallo C4 Dopo cavallo C4 Uno potrebbe non prendere il pezzo E giocare G5 Questo è equivale quasi ad un abbandono Perché il bianco migliorerà la posizione Del suo cavallo in C4 Facendo proseguire l'attacco Però noi dobbiamo capire Se il nero prende Perché è sbagliata Perché Questo sacrificio Con questo sacrificio di pezzo Il bianco vince Tattica Vescovo H6 Scacco Ma qui ci vuole John Graffy Per fare questo esercizio Signale Re per H6 Donna per F7 E matto alla prossima Qui John Graffy risolve Sono più difficili di quello che pensavo Questi esercizi Tra l'altro questi sono gli esercizi Che gli istruttori magistrali Fanno fare Alle prime nazionali E ai candidati maestri Quindi siamo già a livello un pochino più avanzato Facciamo È un esercizio da prima categoria nazionale Però lo voglio proporre anche a voi pepini o meccanici A noi pepini o anche a me Lo propongo anche a me Perché noi siamo pepini o meccanici E dobbiamo capire come migliorare Ok? Bene Vi devo mettere un po' la frusta Perfetto Quindi questa Se avete visto questa manovra Questo sacrificio alla John Graffy Vi date Un punto supplementare Se vedete questo matto Ok Questa linea Con bescovo H6 scacco Ma torniamo qui Il nero ha giocato G5 Non ha preso il pezzo Cavallo in A5 Adesso cavallo lo toglie dalla presa Attacca la donna Donna A8 Cavallo F5 scacco Re in F8 A voi la mossa col bianco adesso Cosa fate qui con il bianco Per continuare ad attaccare? La risposta è H4 Due punti per chi trova H4 Aprendo il guscio Aprendo il guscio Ora qui Se si cattura Entra Entra il viscovo con scacco E qui è game over Scacco Forzata Donna Per H7 Questa è game over Signore Però Il nero non cattura E gioca a bescovo D8 A voi la mossa Dopo bescovo D8 Cosa fate col bianco qui? Cosa fate col bianco qui? La soluzione è Cavallo H6 Un punto per chi trova cavallo H6 Il colpo che pone fine ad ogni resistenza Perché minaccia matto in una Donna per F7 matto Allora il nero gioca F6 Allora il nero gioca F6 L'Eco Kamsky Oye Kamsky Oye Kamsky del 2006 Incredibile vero? Ora Fate la somma di tutti i punti E qua da un prospetto Se avete fatto dei 10 ai 18 punti siete 1.900 Ma non 1.900 sui CS S Siete 1.900 feed Quei primi nazionali Se invece fate da 19 a 25 punti Siete 2.000 candidati maestri Se fate da 26 a 31 punti Segnatevi Da 26 a 31 punti siete 2.100 Candidati maestri molto bravi Se fate da 32 a 37 punti Siete dei maestri 2.200 Se fate da 38 a 42 punti Siete 2.300 maestri feed Se fate da 43 a 47 punti Siete maestri internazionali Se fate da 48 a 51 punti Siete 2.500 grandi maestri Se fate più di 51 punti Siete John Graffy con GoPayPal E sennò siete un barbascacco Bene signora Riflessioni ed insegnamenti di questa partita Vediamo le riflessioni qua Diffidare delle mosse naturali Diceva Reti Ecco Diffidate delle mosse naturali Come gioco io Gioco le mosse istinto Quasi sempre le mosse naturali Sono buone Ma non dobbiamo dimenticare Che ogni indebolimento della Rocco Va analizzato con la lente di ingrandimento Quindi lui parlava della spinta H6 del nero Punto di contatto Punto numero 2 Quando vedi una mossa buona Cercane una migliore 3 E' difficile definire Quando bisogna continuare a manovrare Quando è necessario dare una svolta alla partita Perché c'è un'occasione irripetibile Il nero avrebbe dovuto prendere Col vescovo Il cavallo in E3 E si salvava in tutta quella linea strana 4 Forse non è una partita modello Ma le mosse Donne F3 E soprattutto cavallo C4 Alla John Green Un sacrificio mostruoso Si avvicinano ad un'opera d'arte Quindi siete dei barbascherchi Siete dei barbascherchi signori Ora Un po' di riflessione Un po' di 4 chiacchiere Ma attenzione Sento Un rumore strano Di 500 Ma che succede? Ma che succede qua? Signori Sento un rumore di 500 Adesso non lo sento più Ma che succede? Qualcuno ha parcheggiato una 500 sotto casa mia? Non lo so Non capisco Beh, allora Facciamo 4 chiacchiere sul torneo Sul campionato del mondo E Dingley Ren Che ha perso la partita Ma che succede? Che succede? Nooo Il barba stratega È tornato signori È tornato il barba stratega Ma non eri ad Astana Ma che succede? Ciao a tutti Sono il barba stratega Sono tornato Perché Sono arrabbiato Con Ding Perché avevo preparato La francese Avevo preparato Una gente Devastevole Da barba scacco E lui si è addormentato Sulla scacchiera Ha perso Quasi per il tempo Poi è andato sotto Ha perso la partita Ecco Nel camerino Poi Io gli ho messo le mani addosso Gli ho sceso le mani addosso E l'ho chiuso Nello sgabuzzino Ecco Io Report Del barba fantasy Abbiamo poi chiuso Ding Nello sgabuzzino E gli abbiamo detto Adesso Devi contare Il tempo Che stare chiuso Nello sgabuzzino Così ti allenerai Alla gestione Del tempo Ding S'è messo a piangere Abbiamo dovuto liberarlo Io mi sono arrabbiato Perché non mi hanno la tempra E allora Me ne sono andato Basta Ho lasciato il team Ma come Barba stratega Hai lasciato il team Di Ding Lireng Hai lasciato il team Adesso è rimasto Soltanto più Barba fantasy Con Drapport Ma c'è la speranza Che puoi tornare Da Ding Ding ha bisogno Anche di te Ha bisogno di te Barba stratega Dai Barba stratega Adesso Dobbiamo cominciare Barba stratega A tornare A fare secondo Di Ding Lo sai Che ti può riempire Di soldi Se vince il match Il match è solo a metà Barba stratega Barba stratega Io te lo dico Ti conviene andare Mal che vada Richiuderai Il Ding Nello sgabuzzino Questa volta Butterai via La chiave Ma tanto i soldi Della borsa Anche il perdente Prende la borsa C'è 2 milioni Di dollari Come borsa E il perdente Mi sembra che Ne prendi A 800 mila Quindi Poi prenditi i soldi E Ding Rimane nello sgabuzzino Ti sembra buona Come idea Bravo Carlo Anche tu Sei strategico Come me Bene Allora torno Torno da Ding Prendo il barba charter Il barba jet Che va ai 5 mila chilometri all'ora E in mezz'ora sono ad Astana Domani c'è il match E stanotte lo facciamo lavorare Ding Mi hai convinto Carlo Poi se Ding perde il match Io mi sberlucco i soldi Anche il barba fantasy Anzi Sberlucchiamo anche la parte di report Chi se ne frega Noi siamo più forti E Ding Se non mi vince il match Lo chiudo nello sgabuzzino E butto la chiave Va bene Adesso vado di nuovo A fare un giretto Per andare a 500 O di nuovo all'aeroporto Grazie Mi avete convinto Mi raccomando Dai che istruzioni Vedrete domani Ding Sarà preparatissimo Ciao ciao Ecco qua Il barba stratega E tornate Venuto lui Con il suo jet Barba charter Che va ai 5 mila chilometri all'ora Sapere Il loro 500 Vanno ai 500 chilometri all'ora Mentre il loro jet Vanno ai 5 mila chilometri all'ora Ci non è Mach 5 Una cosa mostruosa E vediamo Ding Domani sarà in grado Io non ho fatto il video Sulla partita Su gara 7 Perché? Perché una partita Persa così Per carenza di tempo Non è valutabile Non è valutabile Ding Ha giocato benissimo La preparazione del barba stratega Era immessa Sulla francese Anche barba fantasy Ci ha messo del suo Però Ding È umano Ding Non ha la stoffa Di giocare Le varianti proposte Dei barba scacchi Cosa vi ho sempre detto io Noi umani Non possiamo giocare Le mosse proposte Dei barba scacchi Le linee teoriche Proposte Dei barba scacchi Noi non le possiamo giocare Neanche Carson Potrebbe giocare Nemmeno Ding Infatti Ding ha dovuto stare tre ore A valutare tutte le opzioni I barba scacchi Invece giocano senza tempo Giocano al colpo I barba scacchi Giocano al colpo Perché loro sono Immense Sono Loro sono Quelli che hanno inventato Gli scacchi Nella notte dei tempi Prima del Big Bang Quindi Sono più forti dei motori C'è poco da fare Però devo dare atto Al vice Al barba psicologo Al barba tattico Di aver detto A Nepo Di stare calmo Che Ding Avrebbe pensato tanto Quindi Per adesso Il barba tattico Insieme al barba Stratega Il barba psicologo Stanno avendo la meglio Sul barba Stratega Il barba Fentes Poi Chiaramente Sappiamo tutti Che il barba Stratega È così È impulsivo E lui è Uno Anche C'è È uno Che vi prende A botte Non sopporta Se lo usate Come trainer Dovete rendere Dovete rendere Quindi Ding Vincerà Poi è chiaro Che se Ding Vincerà Gara 8 Andrà sul 4 a 4 Il barba Stratega Andrà di nuovo A festeggiare Il night club Ma quello Lo si sa Lo si sa Tanto il barba Stratega Non rimane a bocca asciutta O Riesce a frequentare Tutti i night club E a consumare Tutte le bevande Degli alberghi E a mangiare A sbaffo In più Si prende Anche in caso di sconfitta Tutta la borsa Lui e il barbafente Si prendono la borsa Del perdente Che si è Di 800 mila dollari E tolgono anche La parte Report Quindi Se vincono Invece Si sberluccano Diciamo Il milione E 200 mila dollari Lasciano Un euro A dingh E lasciano Magari 100 mila dollari A report Perché comunque Deve far vedere Che ha lavorato Però comunque Vada Loro ci guadagnano Sempre Ok Bene ragazzi Ci vediamo Venerdì Con la puntata Del personaggio misterioso Che sarà Doriano Tocchioni Lo psicopatico Di Firenze Signori Il mostro Di Firenze Dalla scacchiera Spalentevole Spalentevole Signori Vedremo Della partita Fuori di testa E degli aneddoti Su Doriano Tocchioni Signori Bene Mi raccomando Like e iscrizione Continuate così L'esercizio È difficile Ditemi Poi in chat Cosa ne pensate Nei commenti Cosa ne pensate Sono esercizi Difficili Ok Mercoledì prossimo Faremo un po' Di aperture Ma in generale Non andremo a vedere Una variante specifica Perché Molti mi hanno chiesto Sì ma io Gioco quello Mi trovo male Poi gioco l'altro Come metto L'altra variante Quello lì E poi non mi trovo bene Ok Le aperture Non vanno studiate Col motore Vanno studiate Da un punto di vista generale Poi dopo Quando siete già più bravi Potete prendere Le varianti Che propongo E giocare Però se le giocate Da subito È chiaro Che vi trovate difficoltà Ma con qualunque roba Ok Bene ragazzi Con questo è tutto Ciao E arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti